Combattete! Niente paura, arriva in i nostri! Lo vi trattate! Ho come una sensazione di déjà vu! Preso il comando! Ecco fatto! Vantaggio perso! Allora, dove eravamo rimasti? Te la sei andata a cercare! Sta molto bene! Riproviamo! T'ho messo al tappeto! Sì! Al nemico servono 15 uccisioni per vincere! Va molto meglio! Ho come una sensazione di déjà vu! Si torna a combattere! Preso il comando! Allora, dove eravamo rimasti? Vantaggio perso! Beh, sono cose che capitano! Di quando vi trattate! Vantaggio! 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 Ve la domanda! Al nemico servono dieci uccisioni per finire Aspettatemi Te la sei andata a cercare Fa molto meglio Ha come una sensazione di dice E si torna in gioco Dove eravamo rimasti? Ho preso il comando Sottomettiti al mio volere Va molto meglio Va molto meglio Vantaggio first Preparatevi al limparo Si torna a combattere Al nemico servono cinque uccisioni per finire Ho come una sensazione di dice Ecco qua Sono inarrestabile Ripropiando Va molto meglio Allora Non eravamo rimasti Sottomettiti al mio volere Aspettatemi E si torna in gioco Ripropiando E si torna in gioco. Allora, dove eravamo rimasti? Preso e volando. Va molto bene. Resta una uccisione. Tutto dalla distanza. Sì? Via con le bombe. Riproviamo. Partita conclusa. Primo posto. Azione migliore della partita. Accurazione di uccisione doppia. Un'altra! Sì